Qui praticamente basta di caramello, non trae tutto, trae gordura, trae azucari, trae poteri anticongelanti, trae solido e tutto. O che falta qui dentro? Na verdade ci faltano proteine, per questo se uso lecce un po' desnatato e non integrale, perché? Perché se usasse o integrale la mia gordura ficaria molto alta, ok? E non precisiamo aumentare la gordura. Grazie a tutti.